Bal, Vlaovic, Duram Allora, confermato il cambio del portiere Entra Perin Ed esce Di Gregorio Ed esce Bangula Ed entra Hildiz Provazione per Hildiz Ed è l'ingresso in campo Turco classe 2005 Protagonista all'Europeo con la Turchia Cinque presenze, quattro gare da titolare Turchia che è arrivata sino ai quarti Sconfitta dall'Olanda Si riparte E allora Nessun cambio in Casabrese